Benvenuti nel negozio Multistore Caletti. In questo luogo tu puoi trovare diverse tipologie di merce, tra cui tutti gli articoli regalo, le confezioni di bomboniere, tutto il reparto scuola. Puoi prenotare i tuoi libri di testo o qualsiasi tipo di libro che ti può servire. Sempre da noi puoi trovare libri scolastici usati, potrai portare i tuoi e potrai ritirare quelli che noi abbiamo in sede. Abbiamo dei detersivi vegetali naturali biodegradabili. Il nostro punto vendita si trova ad Arpo, in corso Lepeti. Il numero di telefono è 0364 53 11 13. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita per vedere da vicino quello che le immagini vi hanno presentato. Ciao!